Prende la parola il dottor Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. Buongiorno, signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, signori membri della Commissione Parlamentare di Vigilanza, autorità tutte, e con grande piacere e orgoglio che vi do il benvenuto alla cerimonia di inaugurazione del 170esimo anno di età di Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo scelto questo luogo perché per noi è un luogo simbolo, perché questa è la sede storica della Zecca dello Stato dove venivano stampati i buoni libretti che fanno parte del nostro patrimonio. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica qui, la cui presenza per Cassa Depositi e Prestiti tutta è un motivo di grande onore. Vorrei inoltre ringraziare i nostri azionisti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le fondazioni bancarie che sono qui rappresentate oggi ai massimi livelli. E' dal 1850, ovvero da prima dell'unità d'Italia che il CDP investe nel domani del nostro Paese. Tutto questo nasce 170 anni fa sulla base di un modello virtuoso e all'epoca rivoluzionario, nato addirittura prima dei titoli di Stato. Una vera e propria finanza che oggi definiremmo a chilometri zero. Una finanza e un patto soprattutto tra risparmiatori italiani e Cassa Depositi e Prestiti che non è mai stato tradito. Un patto che consente a Cassa Depositi e Prestiti di essere presente oggi in ogni comunità, in ogni comune, sia dal lato della raccolta del risparmio, sia dal lato del rinvestimento sul territorio. Non esiste infatti una comunità che non abbia visto negli anni un'opera sostenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti. Consentitemi a questo proposito di ricordare che già nel 1913 Luigi Eonaudi rivolgeva le sue riflessioni alla Cassa Depositi e Prestiti, divenuta per sue stesse parole un gigante della finanza, definendola la destinazione preferita dai risparmi degli italiani. Oggi oltre 27 milioni di risparmiatori ci danno fiducia in tutta Italia, dal nord al sud, giovani e meno giovani, affidandoci i loro risparmi che sono frutto del loro lavoro. Per questo, signor Presidente e gentili ospiti, Cassa Depositi e Prestiti riteniamo sia un vero patrimonio di tutti. Per questo ritengo che oggi sia opportuno ricordare e sottolineare non solo gli ambiti di operatività di Cassa Depositi e Prestiti e cosa CDP abbia fatto e possa fare, ma sia ancora più importante oggi testimoniare come questa istituzione sia il frutto del lavoro di un insieme di persone, uomini che negli anni si sono in un certo senso passati il testimone per guidarla. Una vera e propria staffetta tra persone che condividono non solo gli stessi valori etici e professionali, ma condividono la stessa missione. Persone consapevoli di dover preservare e sviluppare questa istituzione adeguandola di volta in volta alle sfide del momento. Veri tecnici al servizio del Paese. Mi sia consentito quindi di salutare e ringraziare personalmente ognuno dei Presidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali che mi hanno preceduto nella gestione di questa importante istituzione. Quello che oggi noi facciamo e faremo lo dobbiamo molto anche al lavoro che è stato svolto da queste persone che ci hanno preceduto in questi anni. In questi 170 anni la nostra missione è rimasta inalterata. Si tratta di una missione che tutti noi in CDP continuiamo a svolgere ogni giorno con la stessa passione e dedizione di sempre. E tuttavia oggi siamo stati chiamati a fare ancora di più. In questi ultimi anni il perimetro di azione, come ricordava il Presidente, si è notevolmente ampliato. Dobbiamo farlo anche per rispondere alle nuove e più complesse sfide che ci vengono sia a livello nazionale che a livello globale nel nostro Paese. Proprio per questo, signor Presidente, 11 mesi fa noi abbiamo lanciato un nuovo piano industriale, un nuovo piano ambizioso. L'abbiamo chiamato dall'Italia per l'Italia, proprio per testimoniare quanto sia importante il contributo del risparmio postale a sostegno dello sviluppo del nostro Paese. Vi abbiamo dato obiettivi concreti e sfidanti, ma soprattutto quello che abbiamo fatto evolvere è il nostro approccio. Abbiamo adottato un approccio più proattivo, finalizzato da un lato a essere più vicini al territorio, recuperando in un certo senso il legame storico col territorio. Abbiamo voluto fare sistema e poi abbiamo voluto dare una maggiore attenzione al tema della sostenibilità. Per noi il territorio è fondamentale. Ricordo che un tempo esistevano in ogni comune le persone addette ai rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti e noi abbiamo voluto in un certo senso fare un passo in quella direzione. Abbiamo ricreato degli uffici con persone competenti in grado di intercettare da un lato l'esigenza del territorio, dall'altro di proporre soluzioni concrete e di renderle attuabili. Abbiamo iniziato ad aprire degli uffici nelle principali città, Verona, Genova, Napoli. A breve apriremo Palermo, Bari, Firenze, Torino. Vogliamo essere vicini alle esigenze delle imprese e delle comunità. locali. Ma poi vogliamo fare sistema. Per noi fare sistema significa non solo farlo con le aziende del gruppo, ma lo vogliamo fare con tutto il sistema economico finanziario e poi la nostra attenzione alla sostenibilità. Cassa Depositi e Prestiti nasce come una realtà sostenibile, sostenibile risparmio postale, ma da oggi abbiamo iniziato a affiancare la valutazione della sostenibilità tra gli elementi di valutazione di ogni nostro singolo intervento. Venendo alle imprese che rappresentano uno dei pilastri fondamentali del nostro operato, oggi continuiamo a sostenerle e con questo piano vogliamo sostenerle ancora di più. 60.000 imprese è l'obiettivo che ci siamo prefissati, abbiamo già raggiunto 20.000, un terzo in più rispetto al triennio precedente. Per fare questo abbiamo fatto un ridisegno completo del nostro portafoglio, l'abbiamo fatto insieme alle aziende, abbiamo creato un gruppo di 150 aziende, grandi, medie e piccole con cui ci confrontiamo per individuare le soluzioni ottimali. Vogliamo migliorare l'accesso al credito insieme al sistema bancario, lo stiamo facendo in piena collaborazione con loro, introducendo soluzioni innovative. E' proprio l'innovazione uno dei cardini del nostro operato. Su questo, come diceva anche il Presidente, già oggi noi investiamo in 200 imprese, 200 start-up, ma abbiamo deciso di fare di più. Stiamo lanciando il Fondo Nazionale Innovazione, è pronto e quello che vogliamo fare non è tanto la dotazione di un miliardo, ma soprattutto è fare sistema, collegare l'innovazione con le aziende, aziende del gruppo. Noi partecipiamo direttamente e indirettamente più di 500 aziende in tutti i settori economici, ma lo vogliamo fare anche con tutto il sistema economico finanziario. Crediamo che questo possa essere un elemento differenziale, che possa agganciare l'innovazione alla realtà economica del Paese e far sì che questa possa fare un salto in termini evolutivi. Sul fronte della crescita domestica internazionale ci siamo mossi, sempre col sistema bancario, bilanciando e cercando di sostenere gli investimenti di lungo termine, perché questo ci consente il nostro bilancio. E lo facciamo con strumenti di nuova finanza, di finanza strutturata che abbiamo lanciato, ma soprattutto lo facciamo insieme alle filiere di produzione, da qui sono nati gli accordi con tante filiere importanti, dalla difesa alla cantieristica, all'ingegneria, all'agroalimentare, al turismo. Venendo alle infrastrutture, la pubblica amministrazione rappresenta un partner oggi storico della Cassa Depositi e Prestiti. Con le pubbliche amministrazioni noi abbiamo finanziato le opere grandi e le opere piccole. La storia è piena di esempi. Pensiamo alle reti idriche al sud, le reti del gas al nord, le autostrade, ma anche le piccole opere, scuole, ospedali, strade, tutte cose che fanno la quotidianità delle persone nei comuni. E qui CDP vuole dare ancora una volta il suo contributo, consapevoli delle difficoltà della finanza locale, consapevoli dell'esigenza comunque di intervenire. Abbiamo deciso di creare un nucleo di professionisti, per la prima volta abbiamo assunto ingegneri, abbiamo assunto architetti, program manager, che stiamo affiancando alle amministrazioni locali per aiutarli in questo processo di sviluppo dei loro progetti. Lo stiamo facendo anche sulle grandi opere, con i grandi operatori, vogliamo diventare promotori e non solo finanziatori delle opere. Lo stiamo facendo anche sui comuni. Abbiamo lanciato dei piani in città, così li abbiamo chiamati perché riteniamo che questo esprima al meglio cosa sono dei piani integrati per trovare delle soluzioni insieme ai comuni sui vari fronti. E lo stiamo facendo sulle reti idriche, reti di telecomunicazioni, trasporto locale, a 360 gradi. Abbiamo firmato già Genova, Napoli, Perugia e Torino e ne seguiranno altri a breve. I cantieri che abbiamo aperto, come questo in cui ci troviamo, gli interventi di social housing, student housing, senior housing, sono tutti esempi del nostro impegno concreto e quotidiano a fianco delle comunità. Pochi sanno che oggi Cassa Depositi e Pressi sta finanziando una scuola ogni giorno. Signor Presidente, gentili ospiti, non possiamo pensare allo sviluppo dell'Italia senza considerare lo sviluppo a livello globale. Per questo ci è stata attribuita la responsabilità sulla cooperazione internazionale, siamo gestori dei fondi pubblici sulla cooperazione, ma in quest'anno abbiamo deciso di fare più, di più. Ci abbiamo affiancato anche risorse proprie, lo stiamo facendo con i privati, con le grandi eccellenze italiane, portando dei progetti in quelle geografie. Siamo oggi attori importanti del programma Archipelagos a livello europeo, per promuovere PMI africane. Siamo stati accreditati settimana scorsa al Green Climate Fund delle Nazioni Unite e abbiamo sviluppato anche progetti diversi, come quello dei Libretti Senza Frontiere, in cui raccogliamo risorse da comunità africane presenti qui in Italia, lo abbiamo fatto con il Marocco, con la Tunisia, per poi trasferirli sui libretti nei loro paesi, per finanziare opere in quei paesi lì. 33 miliardi di partecipazioni, questa è la dimensione del nostro portafoglio, noi investiamo e partecipiamo a aziende in tutti i settori economici. Ma in questi mesi abbiamo deciso da un lato di fare maggiormente sistema e dall'altro di riorganizzarle. Per riorganizzarle sono già iniziate le attività, abbiamo creato CDP Industria accanto a CDP Reti per dare una visione unitaria. Abbiamo spostato le SGR sotto CDP Equity, a breve approveremo nel Consiglio di Amministrazione un nuovo piano sull'equity che ci guiderà negli investimenti nei prossimi anni. Vogliamo soprattutto fare sistema, lo vogliamo fare con le aziende del gruppo, lo stiamo facendo, abbiamo fatto nascere alcuni progetti con Leni, Snam, con Terna, con Fincantieri, uno è stato inaugurato recentemente che è di generazione dal moto ondoso, altri li stiamo facendo sempre sulle energie rinnovabili, con i rifiuti, col fotovoltaico. Ma un'altra cosa di cui andiamo orgogliosi è aver fatto nascere un'academy trasversale, l'abbiamo chiamata CDP Academy, che coinvolge i manager anche provenienti dalle aziende del gruppo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il risparmio postale, solido e stabile. Per questo abbiamo innovato quest'anno anche questo, l'abbiamo reso digitale, fruibile, adatto ai millennials, ma soprattutto abbiamo anche rifatto e ridisegnato la parte che ci porta alla tradizione, i buoni. Oggi annunciamo nuovi buoni postali che sono stati rivisitati perché ancora oggi noi stampiamo un milione di buoni all'anno. A questo abbiamo affiancato nuove forme di raccolta, social bond, sustainability bond, sono forme in cui siamo stati primi a lanciarli per sostenere questo tipo di investimenti. Siamo stati anche il primo istituto finanziario in Europa a lanciare i Panda Bonds per sostenere le aziende italiane in Cina. Per quanto riguarda l'Europa noi abbiamo rapporti consolidati, la Commissione Europea, la BEI, la FEI, i nostri omologhi europei. Siamo stati il primo istituto nazionale di promozione in termini di utilizzo delle risorse del piano Juncker e come citava prima il Presidente siamo attivamente collaborando su InvestEU, il nuovo programma. In conclusione, signor Presidente, autorità e gentili ospiti, oggi celebriamo i 170 anni di Cassa Depositi e Prestiti e Cassa Depositi e Prestiti continuerà a investire nel futuro dell'Italia, dall'Italia per l'Italia. Mi sia consentito di ringraziarvi a nome di Cassa Depositi e Prestiti per la vostra partecipazione. E proprio alle colleghe e ai colleghi di CDP è dedicato il filmato che racconta quello che abbiamo fatto in quest'anno, a testimonianza di quanto il CDP sia veramente una parte della quotidianità di ogni italiano. Un vero patrimonio di tutti. Grazie.